Ciao ragazzi, in questo video ripercorreremo la prima fase della rivoluzione francese, quindi sia la situazione sociale e politica nella Francia nella seconda metà del 1700, sia gli avvenimenti principali che si verificano fra il 1789 e il 1792. Partiamo appunto da una descrizione della situazione sociale nella Francia del cosiddetto Ancien Regime, cioè dell'antico regime. La Francia del 1600 e del 1700 è la nazione dell'assolutismo, della monarchia assoluta. È una nazione in cui ci sono classi sociali, come il clero e la nobiltà, che godono di un antico sistema di privilegi, tra cui l'esenzione dalle tasse, e poi c'è praticamente il 98% della popolazione che rientra nel concetto di terzo stato. Il terzo stato è una macro-categoria, cioè un'espressione utilizzata per definire, per includere, tante diverse categorie di lavoratori e diversi ceti sociali. Abbiamo un ceto sociale comunque molto alto, quello dell'alta borghesia, quindi persone con grandi disponibilità economiche, molto ricche, spesso molto influenti. Abbiamo il cosiddetto ceto medio, abbiamo anche i ceti più bassi, cioè quelli più svantaggiati a livello economico, con stipendi o redditi molto più bassi, molto inferiori. Ecco, soprattutto quest'ultima categoria, quest'ultima classe sociale, è quella maggiormente colpita dalla crisi economica che investe la Francia nella seconda metà del 1700. In particolare dopo la Guerra dei Sette Anni, che finisce nel 1763, vede la Francia sconfitta, più ripresa dalla Gran Bretagna, dopo aver investito in genti risorse in questo conflitto. La Francia quindi subisce le perdite dovute alle spese militari, fra l'altro parteciperà, manderà rifornimenti, risorse ai coloni del Nord America, nella loro guerra di indipendenza, nella guerra di indipendenza americana contro la Gran Bretagna. Nel frattempo la Francia entra in una fase di recessione economica, si indebita con paesi stranieri, con le banche, e intorno agli anni Ottanta vede anche il rischio concreto di una carestia, perché c'è una forte diminuzione della produzione agricola. In sostanza si pone il problema di dover riempire di nuovo le casse dello Stato e dover far fronte a questa crisi economica, per cui in una situazione di grande difficoltà, il sovrano, Luigi XVI, decide di ricorrere a una soluzione eccezionale, a una scelta che era piuttosto rara per la storia dell'epoca, cioè convocare gli stati generali. Gli stati generali erano in qualche modo simili ai nostri moderni parlamenti, ma con molti meno poteri e soprattutto, mentre oggi il Parlamento è un organismo fisso, è un'istituzione che è sempre in vigore, sempre in funzione, praticamente, all'epoca gli stati generali venivano convocati soltanto in rarissime occasioni, potevano passare addirittura decenni fra la convocazione di un'assemblea e la convocazione successiva. All'interno degli stati generali si trovavano tre diversi gruppi, che corrispondevano appunto a queste tre grandi categorie della società francese dell'epoca. C'era il gruppo del clero, il gruppo della nobiltà e il gruppo del terzo Stato. Il 5 maggio 1789, quindi, Luigi XVI convoca a far riunire gli stati generali a Versailles. Versailles, ovviamente, perché era la sede del potere monarchico, era la cittadina, il villaggio in cui si trovava, nei pressi del quale si trovava, la regia di Versailles. Sostanzialmente, il terzo Stato, che comprendeva poco più della metà del totale dei membri, circa un migliaio degli stati generali, deve avanzare una serie di richieste. Coglie quest'occasione per richiedere una maggiore uguaglianza per tutti i cittadini francesi e in questo senso si richiama ai principi dell'illuminismo. L'illuminismo era quel grande fenomeno culturale dei decenni precedenti, che era esploso, si era sviluppato soprattutto in Francia, ma che non aveva avuto poi un'attuazione pratica a livello politico. Uno dei principali filosofi dell'illuminismo, Jean-Jacques Rousseau, aveva proprio patrocinato l'esigenza di un nuovo contratto sociale basato sull'uguaglianza fra i cittadini. Uno degli strumenti di cui il terzo Stato vorrebbe avvalersi per poter far valere le proprie ragioni in questa assemblea è quello del voto per testa, che vuol dire che ogni deputato, diciamo, ogni membro degli stati generali avrebbe dovuto poter esprimere un singolo voto. In questo modo, il terzo Stato avrebbe, teoricamente, avuto la maggioranza all'interno degli stati generali. Per tradizione, invece, negli stati generali, ogni gruppo esprimeva un singolo voto, diciamo, riassuntivo, sommativo. Quindi, un voto andava al clero, uno alla nobiltà e uno al terzo Stato. In questo modo, tuttavia, il terzo Stato si sarebbe trovato in perenne inferiorità rispetto, invece, alla volontà di clero e nobiltà, che avevano molti motivi per votare insieme, in maniera coordinata. Di fronte all'ostruzionismo di clero e nobiltà, che tendono a bloccare, per un mese e mezzo, in pratica, i lavori degli stati generali, quindi impedendo, effettivamente, che si possano, si possa arrivare a un voto, a delle decisioni, il 20 giugno del 1789, i membri del terzo Stato si riuniscono nella cosiddetta Sala della Pallacorda. Questo perché era stato bloccato, il re aveva fatto bloccare l'accesso alle sale utilizzate normalmente per le assemblee degli stati generali. Il terzo Stato ha deciso, infatti, di costituirsi come assemblea nazionale, cioè di estromettere, sostanzialmente, il clero e la nobiltà, e di proclamare i deputati del terzo Stato come coloro che avrebbero effettivamente preso delle decisioni, che avrebbero dibattuto e votato una serie di provvedimenti. Di fronte a questa rottura, a questa frattura all'interno degli stati generali, Luigi XVI tenta di intervenire mettendo i bastoni fra le ruote e boicottando il terzo Stato, ma ottiene l'effetto contrario. I deputati del terzo Stato si riuniscono in questa grande sala e pronunceranno quello che è passato alla storia come il giuramento della pallacorda, proprio dal nome di questa sala che generalmente era utilizzata per il famoso gioco della pallacorda. Il terzo Stato diventa così assemblea costituente, cioè si propone di scrivere una nuova costituzione per lo Stato francese. Mentre la tensione sociale cresce, Luigi XVI fa radunare delle truppe intorno a Parigi e a Versailles. Questo assemblamento di truppe crea un clima di sospetto all'interno della borghesia e iniziano una serie di sommosse, una serie di manifestazioni all'interno della città, delle vie di Parigi, che sfoceranno dopo un paio di giorni particolarmente tesi il 14 luglio 1789 in quell'evento che è ricordato nei libri di storia come la cosiddetta Presa della Bastiglia. Pochi giorni prima è arrivata la notizia del licenziamento del ministro delle finanze di Francia Jacques Necker che era una figura che un politico che aveva cercato in qualche modo di trovare dei compromessi, di risolvere la crisi economica applicando appunto un sistema di tassazione anche alla nobiltà e al clero senza riuscirci. È in qualche modo la miccia che porta a un'esplosione di violenza all'interno di Parigi e in particolare con l'assalto a questa fortezza che fungeva da prigione all'interno della città anche se in quel momento era una prigione in disuso c'erano soltanto sette prigionieri all'interno della Bastiglia. Era però un simbolo importante a livello politico a livello istituzionale perché era un po' il simbolo dello Stato e del potere monarchico all'interno di Parigi e a livello più pratico invece era un'importante riserva di munizioni e di armi quindi in qualche modo era importante per i rivoluzionari diciamo accedere e poter accedere a questo arsenale. In quegli stessi giorni si era costituito un corpo paramilitare la cosiddetta guardia nazionale formata da volontari del Terzo Stato che avevano preso il controllo di Parigi al loro capo c'era questa figura molto nota della rivoluzione francese che è il Marchese della Fayette in pratica quindi la guardia nazionale questo corpo di volontari decisi a prendere il controllo di Parigi e a evitare diciamo il rischio di repressioni violente da parte dei soldati cosa fanno? Riescono a entrare all'interno della Bastiglia vengono uccisi i comandanti della guarnigione i comandanti diciamo delle truppe all'interno della Bastiglia le loro teste verranno poi esposte su delle picche portate in giro per le vie di Parigi la Bastiglia verrà proprio distrutta nei giorni successivi tant'è che oggi della Bastiglia non rimane assolutamente nulla laddove prima c'era la Bastiglia adesso c'è una grande piazza la notizia della presa della caduta della Bastiglia e quindi del fatto che Parigi adesso è in mano alla guardia nazionale si diffonde rapidamente nel resto della Francia e susciterà una serie di altre rivolte da parte del popolo in questo caso parteciperanno anche e soprattutto i contadini in tutta la provincia di Parigi in particolare si scatenano queste rivolte e queste sommosse contro la nobiltà rurale con la nobiltà di campagna e i proprietari terrieri è il periodo che viene definito della cosiddetta grande paura mentre quindi aumenta la tensione in tutto il nord della Francia ma non solo il 4 agosto 1789 l'assemblea costituente abolisce definitivamente il sistema di privilegi del clero e della nobiltà con una delibera una votazione ufficiale il 26 agosto 1789 viene approvata la cosiddetta dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino è il documento alla base della nuova costituzione francese è scritto dall'assemblea costituente si compone di 17 articoli è ispirato ovviamente ai principi dell'illuminismo fra i principi appunto fra le nuove idee inserite all'interno di questa dichiarazione ci sono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge l'idea della sovranità del popolo cioè del fatto che il popolo abbia il diritto di governarsi di prendere decisioni per se stesso il principio della libertà di parola di pensiero di religione di stampa e l'idea dell'inviolabilità delle persone e della proprietà quindi mentre si stanno ponendo le basi per un nuovo stato francese proseguono però le proteste le sommosse e continua a crescere il malcontento nei confronti della situazione e cioè verso tutto ciò che rappresenta l'ancien regime l'antico regime appunto il 5 ottobre 1789 delle proteste da parte del popolo giungono fino alla regia di Versailles in pratica da Parigi parte un corteo un corteo di manifestanti che in seguito proprio alla carenza di cibo alla carenza di pane si organizzano per questa grande sommossa che prenderà il nome di rivolta del pane appunto la notte del 5 ottobre 1789 questa folla si assiepa si raduna proprio alle porte della regia di Versailles il sovrano Luigi XVI insieme alla sua famiglia la moglie Maria Antoinette viene dunque costretto a tornare e rientrare a Parigi scortato dalla guardia nazionale attenzione quindi perché è importante ricordare che la rivoluzione francese non segna immediatamente la fine della monarchia in Francia al contrario il re rimane in carica rimane il capo dello stato francese ma l'assemblea costituente continua a lavorare per scrivere e redigere la nuova costituzione francese questa nuova costituzione viene ratificata il 3 settembre 1791 quindi più di due anni dopo lo scoppio della cosiddetta rivoluzione due anni dopo la presa della Bastiglia e viene firmata da Luigi XVI nasce quindi ufficialmente una monarchia costituzionale cioè la Francia diventa una monarchia costituzionale in cui sono applicati i principi dell'illuminista Montesquiet cioè la divisione dei tre poteri dello stato la separazione dei poteri nella Costituzione e attraverso le decisioni dell'assemblea costituente vengono confiscate cioè tolte tutte le proprietà della chiesa che serviranno da quel momento a finanziare le casse dello stato quindi a rinvigorire l'economia francese inoltre si provvede alla Costituzione civile del clero cioè da quel momento in poi gli ecclesiastici francesi non sono più sottoposti almeno ufficialmente a livello statale all'autorità del Papa ma rispondono direttamente allo stato francese sono abolite poi le tasse feudali cioè imposte dagli antichi feudatari e viene sancita in pratica la fine dell'aristocrazia ovvero vengono dichiarati nulli i vari titoli nobiliari inoltre avviene diciamo viene messo in pratica il cosiddetto suffraggio ristretto cioè viene concesso il diritto di voto a una parte dell'alta borghesia non siamo ancora al suffraggio universale cioè il diritto di voto per tutti ma soltanto per una parte della borghesia del terzo stato inoltre vengono istituiti i cosiddetti uffici di stato civile che dovranno tenere il conto in qualche modo della popolazione francese è cominciata dunque come abbiamo visto una fase completamente nuova e inedita nella lunga storia della Francia però attenzione perché la rivoluzione francese non è ancora terminata siamo soltanto alle prime fasi e molti avvenimenti importantissimi fondamentali si verificheranno da qui a breve